Mercedes Ron, è colpa mia? Capitolo 7. Noah. Quando aprì gli occhi quella mattina mi sentivo davvero male. Per la prima volta in vita mia la luce mi dava fastidio. Avevo un mal di testa amicidiale e mi sentivo molto strana e difficile da spiegare, ma ero consapevole di ogni movimento, di ogni sensazione che stava avendo luogo all'interno del mio organismo, ed era tanto sgradevole, quanto fastidiosa e inquietante. Avevo la gola secca, e come se non avessi bevuto niente da oltre una settimana. Raggiunsi a fatica il bagno e mi guardai allo specchio. Mio Dio, che orrore! E a quel punto ricordai. Sentì un tremore per corrermi il corpo da capo a piedi. Mi guardai allo specchio. Avevo gli occhi gonfi e i capelli scompigliati, raccolti in una coda mal fatta. Mi sorprese perché non ricordavo di essermeli legati. Mi tolsi il vestito, mi lavai i denti per non sentire in bocca quel retro gusto amaro, e mi infilai i pantaloncini del pigiama e la mia maglietta bucherellata preferita. I ricordi riaffioravano come fotografie che scorrevano troppo in fretta. Riuscivo a pensare soltanto a una cosa, la droga. Mi avevano drogata, avevo ingerito delle droghe. Ero salita sull'auto di uno sconosciuto. Mi ero intrufolata a una festa di delinquenti ed era tutta colpa di una sola persona. Uscì dalla mia stanza sbattendo la porta e attraversai il corridoio fino alla camera di Nicolas. Apri senza disturbarmi a bussare e mi ritrovai dentro la tana di un orso, sempre che potesse essere paragonata a quello. Sotto la coperta dell'immenso letto scuro c'era qualcuno. Mi avvicinai e strattonai l'individuo che dormiva paccioso, come se non fosse successo niente, come se non fosse colpa sua se mi avevano drogata. Cazzo, brontolò lui con voci impastata e senza aprire gli occhi. Guardai i suoi capelli arruffati, nascosti tra le lenzuola di raso nere, e tirai con forza la trapunta scoprendolo del tutto, senza curarmene minimamente. Quanto meno non era nudo. Ma indossavo un paio di boxer bianchi, che mi lasciarono spiazzata per qualche istante. Dormiva pancia in giù, per cui ebbi una panoramica perfetta della sua ampia schiena, delle sue lunghe gambe, e quel che va detto va detto del suo splendido fondo schiena. Mi costrense a concentrarmi sul motivo della mia visita. Cos'è successo ieri notte? Gli urlai, quasi mentre lo scuotevo da un braccio perché si svegliasse. Lui grugnì seccato e mi afferrò la mano per fermarmi, il tutto con gli occhi ancora chiusi. Con un movimento brusco mi buttò sul suo letto. Caddi seduta accanto a lui e cercai di vincolarmi, ma lui me lo impedì. Cazzo, non stai zitta nemmeno la drogata, brontolò scontroso e infine aprì gli occhi per guardarmi. Due iridi azzurre mi fissarono. Cosa vuoi? Mi chiese, lasciandomi il polso e tirandosi su. Mi alzai subito. Cosa mi hai fatto stanotte mentre ero drogata? Chiesi temendo il peggio. Mamma mia, se solo aveva provato a farmi qualcosa. Nicolas socchiuse gli occhi e mi guardò arrabbiato. Di tutto, mi dispose facendomi impalidire. A quel punto scoppiò a ridere e io gli diedi un colpo sul petto. Idiota! Lo insultai sentendo il sangue salirmi alle guance per la rabbia. Nicolas mi ignorò e si alzò. Allora qualcuno entrò in camera sua, un essere peloso e tanto oscuro quanto il suo padrone e quella maledetta stanza. Ehi Thor, hai fame? Gli chiese, guardandomi con un sorriso divertito. Ho qui un gustoso regalino per te. Me ne vado, dissi, dirigendomi verso la porta. Non volevo più rivedere quell'idiota, mai più, e il fatto di sapere che era impossibile peggiorò ancora di più il mio umore. Nicolas mi intercettò a metà stanza. Andai quasi a sbattere contro il suo petto nudo. I suoi occhi cercarono i miei sostegni suo sguardo con diffidenza e sfida. Mi dispiace per quello che è successo stanotte, disse, e per qualche miracoloso secondo pensai mi stesse chiedendo scusa. Ma quando mi stavo sbagliando, però non può dire assolutamente niente, o sono fottuto, continuò a quel punto. Mi fu chiaro che l'unica cosa che gli interessava era salvarsi il culo. E chi se ne frega di cosa era successo a me. Feci una risata ironica. Ha parlato il futuro avvocato, commentai con sarcasmo. Tieni la bocca chiusa, mi avvisò ignorando il mio commento. Oppure? Risposi provocandolo. I suoi occhi mi percorsero il viso, il collo, e si fermarono sull'orecchio. Poi sfiorò con un dito un punto per me molto importante. Oppure questo nudo forse non sarà abbastanza forte per te, sussurrò, e io indietreggiai. Ma che ne sapeva lui dell'essere forti o del mio tatuaggio? Ignorami, e io farò lo stesso. Così riusciremo a sopportare i pochissimi momenti in cui dovremo stare insieme, d'accordo? Proposi, passandogli accanto e allontanandomi. Thor mi guardò scodinzolando. Almeno il cane aveva smesso di odiarmi, mi dissi per consolarmi mentre uscivo da quella stanza. La prima cosa che feci appena fuori di lì fu tornare in camera mia. Non mi piaceva non riuscire a ricordare nulla di quello che era successo. Nicholas aveva visto in me qualcosa che non gli avrei mai voluto mostrare, ed era proprio quello a farmelo odiare così tanto in quel momento. Non riuscivo a capire come mai, in così poco tempo, fossi riuscita a creare dentro di me un rifiuto tale nei suoi confronti. Ma se ci pensavo bene non c'era da stupirsi, visto che Nicholas Lester rappresentava esattamente tutto quello che detestavo in una persona. Era violento, pericoloso, prepotente, bugiardo, minaccioso, tutte caratteristiche che mi facevano correre a gambe levate nella direzione opposta alla sua. Notai che la mia borsa era stata abbandonata sul letto. Presi il cellulare da dentro e lo misi in carica, mentre lo accendevo nervosa. Merda, Dann mi avrebbe uccisa. Gli avevo promesso che la sera prima l'avrei chiamato. Doveva essere arrabbiatissimo. Maledetto Nicholas Lester. Era tutta colpa sua. Quando entrai nella chat vidi che non c'era alcun messaggio e nessuna chiamata persa. Quello sì che era strano. Fuori c'era una splendida giornata, ideale per andare in spiaggia, o a farsi la prima nuotata in quella piscina incredibile. Un po' più di buon umore decisi che sarei andata a rilassarmi al sole, leggendo un bel libro e provando a dimenticare quello che era successo, o peggio, quello che sarebbe potuto succedere. Presa da quei pensieri, mi diressi verso il mio gigantesco e decisamente appariscente armadio. In un cassetto trovai una tonnellata di costumi da bagno e continuai a rovistare fin quando non ne trovai uno intero. Guardai il mio corpo nudo allo specchio e osservai attentamente la parte che mi causava così tanti complessi. Decisi di non farci troppo caso. In fondo ero a casa mia. Con indosso un vestito da spiaggia e in mano un telo mare color lilla, uscì dalla stanza pronta ad affrontare la prima colazione in quella casa. Trovavo molto strano camminare lì. Mi sentivo come quando da piccola restavo a dormire a casa delle mie amiche e di notte avevo bisogno di andare in bagno, ma evitavo per paura di imbattermi in qualche familiare. Quando arrivai trovai mia madre in pantofole con indosso una vestaglia bianca di seta accanto a un wheel vestito di tutto punto pronto per andare a lavorare. Buongiorno Noa, mi salutò non appena mi vide. Hai dormito bene? Come non mai considerato che ero incosciente e avevo un mal di testa della Madonna. Non è stata proprio la mia notte migliore, risposi brusca. Mia madre si avvicinò per darmi un bacio sulla guancia. Ti sei divertita con Nick e i suoi amici? mi chiese speranzosa. Oh mamma, quanto ti stai sbagliando, non hai idea di chi è il tuo nuovo figliastro. Parli del diavolo? disse William dietro di me, mentre si alzava dal tavolo ed entrava Nick. Nick. Come va famiglia? parlò in tono secco e si diresse verso il frigo. Come siete stati ieri sera? chiese mia madre guardandolo contenta. Come era il film? aggiunse rivolgendosi a me. Film? Cosa? inizia a chiedere mentre Nick chiudeva con forza il frigorifero e si voltava verso di me con il suo sguardo di ghiaccio. Il film era grandioso, vero Noa? mi chiese fissandomi con insistenza. A quel punto mi resi conto che potevo davvero metterlo nei guai. Se avessi detto la verità, chissà come avrebbe reagito suo padre, senza contare i guai in cui si sarebbe cacciato se decidevo di denunciare alla polizia perché aveva bevuto e aveva offerto da bere a una minorenne, ovvero la sottoscritta, perché aveva permesso che mi drogassero e ovvio per avermi lasciata da sole in mezzo alla strada. me la godetti al massimo mentre con lo sguardo lasciavo intendere che non avevo la più palida idea di quello di cui si stava parlando. Non ricordo bene, risposi spassandomela nel vedere come si agitava. Era a letto con il nemico o traffic? Mi chiesi, consapevole di quanto mi sarei divertita a vederlo in quella situazione, ma con mia grande sorpresa scoppio a ridere. Mi svanì il sorriso dal volto. Più probabile è Cruel Intentions, mi dispose lui, e la cosa mi stupì perché era uno dei miei film preferiti. Ironico, considerato che i due protagonisti sono fratellastri che si odiano a morte. Lo fulminai con lo sguardo mentre mia madre sospettosa chiedeva «E di cosa state parlando?» «Di niente», rispondemmo all'unisono e questo mi scocciò ancora di più. Mentre mia madre ci ignorava e salutava il suo nuovo marito, mi avvicinai al frigorifero. Al conicolas era appoggiato a braccia incrociate in una posizione intimidatoria. Rimanemmo un attimo a guardarci. Io con sguardo minaccioso e lui come se quello fosse uno dei migliori momenti della sua vita. «Ti sposti sì o no?» gli intimai perché mi lasciassi aprire il frigo. Lui sollevò divertito le sopracciglia. «Senti, pel di carota, credo che noi due dobbiamo chiarire un paio di cose visto che ci tocca vivere sotto lo stesso tetto», affermò senza spostarsi. Io lo osservai freddamente. «Che ne pensi se quando io entro tu esci, quando ti vedo ti ignoro e quando parli faccio finta di non sentirti?» gli proposi con un sorriso ironico maledicendo il giorno in cui l'avevo incontrato. «Mi sono fermato a quando io entro tu esci», commentò con fare malizioso e sorridendo nel vedere che arrossivo. «Maledizione!» «Mi fai schifo», gli dissi mentre cercavo di spostarlo per uscire ad aprire il frigo. Finalmente si tolse di mezzo e potei prendere il mio succo d'arancia. Mia madre se n'era andata tenendo in una mano la tazza di caffè e latte, nell'altra il giornale. Sapevo cosa desiderava. Voleva che io e Nicola s'andassimo d'accordo, che diventassimo amici e che per grazia ricevuta gli volessi bene come fosse il fratello maggiore che non avevo mai avuto. Ridicolo! Lo guardai mentre mi sedevo su uno degli sgabelli attorno all'isola e mi versavo il succo in un bicchiere. Nicola si indossava i pantaloni di una tuta e una semplice canottiera. Aveva braccia ben tornite e dopo aver assistito ai pugni che a distanza di dieci minuti aveva dato ai due ragazzi diversi, sapevo di dovermene tenere alla larga. Chissà che altro era in grado di fare. Poi si voltò con in mano il caffè e allora lo vidi. Il tatuaggio era lo stesso che avevo io sul collo, lo stesso nodo, lo stesso simbolo che per me significava tante cose. Quell'energumeno aveva il mio stesso nodo tatuato sul braccio. Rimase a osservarlo attentamente con una fitta al petto mentre lui si avvicinava e si sedeva proprio davanti a me. Mi guardò per un attimo finché non si rese conto di cosa stava fissando. Posò la tazza sul tavolo e appoggiò gli avambracci sulla superficie. Ha stupito anche me, ammise, bevendo un sorso di caffè. Il suo sguardo si concentrò sul mio volto per poi scendere fino al collo. Mi sentì a disagio ed esposta. Alla fine pare che abbiamo qualcosa in comune, dichiarò con freddezza. Sembrava che anche lui desse fastidio che condividessimo lo stesso tatuaggio. Mi alzai, mi tolsi l'elastico dai capelli che caddero coprendomi collo e tatuaggio. Subito dopo me ne andai dalla cucina. C'era qualcosa nelle ultime parole che aveva pronunciato, che mi aveva scossa, come se in qualche modo sapesse le ragioni per cui avevo quel tatuaggio e le capisse. Uscì nel giardino sul retro. Era incredibile come si vedeva il mare da lì e come la brezza marina ti avvolgeva con il suo odore e il suo tepore. Non potevo negare che mi piaceva molto potermi godere quei panorami e avere il mare così vicino ora che avrei abitato lì. Mi avvicinai all'esbraio di legno che c'erano accanto all'enorme piscina rettangolare con una cascata in un angolo che dava a luogo un tocco selvaggio e al tempo stesso elegante. Accanto alla scogliera sulla sinistra del giardino c'era una jacuzzi posizionata strategicamente tra due enormi massi in modo da poter apprezzare lo splendido paesaggio. Decisa di godermi tutta quella meraviglia dopo essermi assicurata che non ci fosse nessuno né dintorni mi torsi il vestito e mi stesi su un asdraio intenzionata a prendere il sole e a ottenere una bella tintarella in meno di una settimana. Dovevo sfruttare le poche vacanze che mi restavano visto che da lì a un mese avrei iniziato le lezioni nella mia vita nuova ed estremamente costosa scuola per i figli di papà. Presi il cellulare e controllai se avevo qualche chiamata persa dalle mie amiche o ancora meglio del mio ragazzo Dan. Niente senti una piccola fitta al cuore ma non mi concessi di preoccuparmi. Mi avrebbe chiamata ne ero certa. Quando gli avevo detto che me ne sarei dovuta andare aveva dato di matto. Uscivamo insieme da nove mesi ed era il mio primo fidanzato ufficiale. Lo amavo. Sapevo di amarlo perché non mi aveva mai giudicata perché mi era stato sempre accanto quando ne avevo avuto bisogno e inoltre era davvero un gran fico. Quando avevamo iniziato a uscire insieme non stavo nella pelle dalla gioia. Ero l'adolescente più felice dell'universo e ora me ne ero dovuta andare in un altro paese. Entrai nella chat e gli lasciai un messaggio. Sono qui e mi manchi tanto. Quanto vorrei stare con te. Chiamami quando leggi. Rilessi il messaggio e notai che il suo ultimo accesso alla chat risaliva mezz'ora prima. Sospirai, lasciai il cellulare sull'astraio e mi avvicinai alla piscina. L'acqua era a una temperatura perfetta per cui mi allungai, alzai le braccia e mi tuffai di testa. Fu insieme liberatorio. Rinfrescante e divertente. Inizia a notare felice di poter rilasciare tutte le tensioni grazie al movimento. Uscì dall'acqua una quindicina di minuti dopo e mi stesi sull'astraio aspettando che il sole facesse il suo lavoro. Presi il cellulare per vedere se Dan mi aveva risposto. Era online, ma ancora nessuna notizia. Mi accigliai. In quel preciso istante mi arrivò un messaggio della mia amica Beth, curiosa come sempre. Ciao bella, che fai? Racconta, racconta. Sorrisi e le rispose con un po' di nostalgia. Beh, il mio fratellastro è peggio di quanto potessi immaginare, ma cerco di abituarmi all'idea che dovremmo condividere, convivere e non sai quanto vorrei essere lì con voi, mi mancate. Le scrissi con un nodo allo stomaco. Io e Beth eravamo nella stessa squadra di pallavolo. Negli ultimi due anni io ero stata il capitano e ora che ero andata via lei aveva preso il mio posto. Mi aveva fatto piacere vedere quanto ne era stata contenta. Almeno la mia partenza aveva portato a qualcosa di positivo, anche se non mi aveva mai accennato di voler diventare capitano della squadra. Stai esagerando sicuro. Goditi la tua nuova vita da miliardaria. Come ti ho sempre detto, tua madre sì che sa come fare il colpaccio. Odiavo quel commento. L'aveva già fatto più di una volta e non sopportavo che le persone credessero che mia madre si fosse sposata per interesse. Lei non era così, anzi era l'esatto opposto. Le piacevano le cose semplici, proprio come a me. E se aveva sposato Will era perché ne era davvero innamorata. Decisi di non controbattere, non mi andava di discutere, tanto meno di tutti quei chilometri di distanza, a tutti quei chilometri di distanza. Poi mi mandò una foto. Erano lei ed Anna abbracciati e tutti rostri in viso. Lui era biondo, con gli occhi marroni, uno spettacolo. Mi fece male vederlo così contento. Ero partita da meno di 48 ore. Poteva essere più pelino più triste, no? Non poteva fare a meno di chiederle. Sei con lui adesso? La risposta ci impiegò un po' più del dovuto e sentì nuovamente quella piccola fitta, come un allarme nella testa. Sì, siamo a casa di Rosa. Ora gli dico di risponderti. E da quando è in qua, Beth doveva dire al mio fidanzato di rispondermi al telefono. Dopo un minuto mi arrivò un messaggio di Dan con un emoticon sorridente. Ehi, bellezza, ti manco? Ovvio, avrei voluto urlargli, ma mi tratteni e gli disposi percependo in me un umore altalenante. Perché io a te? Perché? Io a te no? Ci impiegò qualche secondo a rispondermi. Odiavo che ci mettesse tanto. Ma certo, qui non è lo stesso senza di te, piccola, ma ora devo andare. Ti chiamo dopo, ok? Ti amo. Migliaia di farfalle iniziarono a svolazzarmi nello stomaco. Lo salutai e appoggiai il telefono lì accanto. Non vedevo l'ora di parlare con lui, di sentire la sua voce. Mamma mia, non avevo idea di come avrei fatto a non sentire la sua mancanza ogni minuto del giorno. In quel momento sentite le voci che si avvicinavano al giardino. Mi girai in fretta, presi il mio vestito e me lo infilai in testa. Era Nick con tre ragazzi. Merda! Erano gli stessi che avevo visto il giorno prima la festa. Uno era quasi alto quanto lui, abbronzato, con i capelli biondi come loro e gli occhi azzurri. L'altro era più basso, ma solo si è paragonato a Nick e agli altri due amici e non mi sorprese notare che aveva un occhio nero dopo aver visto Nick in azione. Non mi stupiva che i suoi amici fossero violenti e imbecilli come lui. L'ultimo catturò la mia attenzione, più che altro perché fu il primo a dirigersi e a dirigersi verso di me. Aveva i capelli castano scuro e occhi neri come la notte. Faceva un po' paura, anzi parecchio, soprattutto per la marea di tatuaggi che aveva sulle braccia. «Ehi, bella, sei tu la nuova fantasia erotica che tutti abbiamo nella testa?» mi chiese buttandosi sull'asbraio vicino alla mia. Nicholas si coricò sull'altra con un sorriso sulle lambra. «Scusa?» chiesi, tirandomi su e guardandolo fisso. «Avevi ragione, non le manca proprio niente!» convenne, guardandomi in un modo che mi fece sentire a disagio. Gli rivolse uno sguardo schifato. Nel frattempo gli atti suoi due amici si tuffarono in piscina con un tale impeto che l'acqua mi raggiunse in pieno. Il vestito mi si appiccicò al corpo. «Coglioni, fatta attenzione!» gli urlò contro Nicholas togliendomi il telo che avevo vicino per asciugarsi. Il buffo numero tre che era lì di fianco scoppiò a ridere. «A me non dà fastidio», disse con una strana voce, e mi voltai ad osservarlo. «Per avere solo quindici anni sei davvero una gran gnocca», commentò, fissandomi le tette che il vestito bagnato aveva messo in risalto. «Ne ho diciassette, e se non la smetti di guardarmi così, presto ti farà male una parte del corpo fondamentale». Lo minacciai, cercando di staccarmi un po' il vestito di dosso. In quel preciso istante Nicholas mi lanciò l'asciugamano che mi aveva rubato, e io mi coprì subito. «Lasciala in pace», disse serio all'amico, «o dovrò buttarla in acqua per farla stare zitta». «Questo divinamente», feci una risata ironica. «Come detto», ringhiai girandomi verso di lui. Era in costume da bagno, mi trovai di nuovo davanti a un primo piano del suo petto nudo e del suo tatuaggio. Si torsi Raben e i suoi occhi chiari mi osservarono attentamente. Alla luce del sole avevano un'incredibile tonalità azzurro cielo, e mi distrassi per qualche secondo. «Non penserai che mi sia dimenticato del pugno che mi hai dato ieri sera, vero?» mi disse, chinandosi verso di me. Mi guardai le nocche, erano ancora indolenzite dal colpo che li avevo rifilato. La sua mandibola, invece, non era nemmeno un po' arrossata. «Mi stai minacciando?» gli chiesi, sfidandolo con lo sguardo. Quel tizio mi avrebbe fatto impazzire. Dall'altro lato sentì un'ulteriore risata. «Adoro questa ragazza, Nick, deve uscire più spesso con noi», commentò il tatuato mentre si alzava e stuffava in piscina di testa. «Stami a sentire pel di carota, non puoi parlarmi come ti gira», mi avvisò Nick, sedendosi, avvicinandosi a me. «Li vedi quei ragazzi lì?» proseguì indicando la piscina senza aspettare la mia risposta. «Mi dispettano, e sai perché? Perché sanno che li potrei spezzare le gambe in un nanosecondo, quindi vedi di fare attenzione a come ti rivolge a me. Stai lontana dal mio mondo e andrà tutto bene». Lo ascoltai in silenzio, meditando su una possibile risposta. «E' bizzarro che sia tu a minacciarmi, quando potrei essere io ad andare a spiattellare tutto a tuo padre, non credi?» Nick serrò con forza la mandibola e io sorrisi con sufficienza. «1-0 per Noah. Non ti conviene giocare con me, Noah, credimi». Ignorando l'effetto che mi provocava il suo sguardo fisso su di me, mi chinai per prendere un po' di protezione solare. Avevo bisogno di tenere le mani occupate. «Allora smettila di aspettarti che ti tratti con rispetto, che sei lontano anni lucida al meritare», risposi molto seria. «Non vuoi che racconti nulla di quello che è successo ieri notte? Bene, allora risparmiami i tuoi commenti e dia ai tuoi amici che mi lasci no in pace». Prima che potesse rispondermi, uno di quelli arroganti uscì dalla piscina e si dette accanto a me. Mi schizzarono addosso alcune goccioline d'acqua provenienti dal suo corpo, mi scostai seccata. «Vuoi una mano? Posso spalmarti la crema solare sulla schiena, bellezza!» Guardai fissa Nick. «Battene, Hugo, io e la mia sorellina stiamo facendo una chiacchierata molto interessante», gli ordinò senza togliermi lo sguardo di dosso. Hugo si alzò senza farselo ripetere due volte. «Bene, ci vediamo stasera?» chiese, prima di andarsene. Nick anduì in silenzio. «Le scommesse sono alte, zio. Dobbiamo trovare il modo di vincere le corse». Nick lo folminò con lo sguardo e la sua risposta catturò il mio interesse. «Aveva appena pronunciato la parola corse? Ti ho detto di andartene!» Hugo aggrottò le sopracciglia, mi guardò di nuovo e a quel punto parva accorgersi di aver parlato troppo. «Quando il resto dei suoi amici se ne andò, girai su me stessa e affrontai il mio fratellastro. Corse?» Nick si infilò di nuovo gli occhiali e rivolse la testa verso il sole. «Non fare domande di cui non vuoi sapere la risposta!» Mi morsi il labbro intrigata, ma non intendevo insistere. Non mi importava niente dei casini in cui Nicholas Lester poteva essere coinvolto, o così credevo. Nel pomeriggio approfittai per passare un po' di tempo con mia madre. Quella sera ci sarebbe stata la festa aziendale di William e mia madre mi aveva detto che dovevamo andarci. Non che la cosa mi facesse particolarmente piacere, ma sapevo di non potermela evitare. William stava lavorando da mesi a quell'evento e si aspettava che ci fossimo tutti. «Ero seduta sul divano dentro la sua cabina armadio. La nuova stanza di mia madre era ancora più incredibile della mia, arredata in tonalità crema con un immenso letto matrimoniale. Era tanto imponente quanto la suite di un hotel di lusso. Aveva due cabine armadio invece di una. Non avrei mai pensato che un uomo potesse aver bisogno di un armadio tutto per lui, ma nel vedere le centinaia di camicie, abiti e cravate che c'erano in quello di William mi dovessi ricredere. Quella sera sarebbe stata molto importante per mia madre. Ovviamente ci sarebbero stati gli amici più cari e più autorevoli magnati dell'industria e dell'ambiente legale e non tutti avevano avuto l'onore di conoscere mia madre di persona. Era così nervosa che era quasi diversa, divertente, era così nervosa che era quasi divertente starla a guardare. «Mamma, sarai fantastica con qualsiasi cosa ti metta addosso. Perché non la smetti di stressarti?» Le si voltò e mi rivolse uno sguardo radiante. Rimasi senza fiato nel vederla così felice. «Grazie, Noah», disse mostrandomi un vestito bianco e verde. «Allora questo può andare?» mi chiese per l'ottava volta. Annui, ripensando a quella sera. Se Nicholas aveva in progetto di andarsene di nuovo per cacciarsi in qualche guaio, allora anch'io sarei stata libera di filarmela proprio come lui o almeno era quello che mi ripetevo per consolarmi. «Anche il tuo vestito è una meraviglia», affermò mia madre e mi tornò in mente l'abito che avrei dovuto indossare. «Per favore, non fare quella faccia. Non morirai se ti agghindi un po' di più», disse, vedendo il mio sorriso appena accennato. Mi dispiace, mi scusai con voce seria. Ultimamente il mio umore era una vera e propria montagna russa. Ma in questo momento non è che mi vada proprio di andare a cena o partecipare ad un galà. Sarà divertente, te lo prometto», mi assicurò sperando di tirarmi sul morale. Pensai a Dan, a quanto mi sarebbe piaciuto che mi vedesse con il vestito che avrei indossato quella sera. A cosa serviva a farmi bella se non mi avrebbe guardata nessuno di cui mi importava? «Ne sono certa», risposi, ignorando il mio malessere. Immagino che dovrei iniziare a sistemarmi. Mia madre interruppe quello che stava facendo e venne verso di me. «Grazie, tesoro, so che lo fai per me e significa molto», annui cercando di sorridere. «Di niente», risposi, lasciandomi stringere tra le sue braccia. Mi accorsi di quanto avessi bisogno di quel contatto fisico, soprattutto dopo quello che era successo la notte prima. Mi aggrappai con forza a mia madre e lasciai per qualche istante mi facesse sentire come quando ero piccola.